Bene ragazzi bentornati nel mio canale in questo mio nuovo video Oggi ragazzi siamo qui per commentare Pescara Reggiana finita 3 a 2 per la Reggiana Allora a dire la verità più che commentare la partita Io vorrei più commentare la prestazione del Pescara Perché io mi sto rendendo conto Che il Pescara ha preso almeno un gol a partita Aveva una difesa che fa acqua da tutte le parti L'anno scorso avevamo un attacco sterile Quest'anno non abbiamo una difesa Perché ci facciamo sempre cogliere impreparati Allora parlando un attimo della partita Perché magari prendiamo spunto da quella Cioè abbiamo preso due gol in cui praticamente I giocatori della Reggiana erano completamente da soli Secondo gol che abbiamo preso Una palla in aria, un cross in aria completamente da solo Poi un altro discorso è se c'è il fuorigioco Un altro discorso sono gli errori arbitrali Sinceramente abbiamo una difesa che si perde l'uomo Perché? Perché? Perché se prendiamo tanti gol E ogni gol che prendiamo Un giocatore Ogni giocatore che segna Fa gol Ed è libero Allora una cosa vuol dire C'è una difesa che fa acqua E tu inserisci una difesa che fa acqua Non la puoi avere Tu c'è una cosa che io ho imparato E che non devi inserirci Non puoi avere una difesa che fa acqua Cioè non devi prendere il meno gol possibile Pescara in attacco è forte Cioè Ferrari Perché per me è l'unica cosa che stona Ferrari a me non piace Ok? Può pure fare i gol Ha fatto un bel gol anche ieri Ma a me non piace sinceramente Come numero nove Poi magari posso pure Posso pure rivalutarlo Però ora come ora A me non piace Mi piace un sacco d'Ursi De Marchi Clemenza Pompetti Che comunque rientrerà Ma a me Ferrari non mi dice niente Centrocampo ci sta Ok? Grosso modo se la cava Solo che leverei solo Ma ormai Ma la difesa Sinceramente Fa acqua Cioè non va Prendiamo almeno un gol a partita Poi vabbò A parte l'arbitraggio Che ripeto Può essere molto discutibile Sia il primo che il secondo gol E l'espulsione su Di Gennaro Il portiere pure è forte Ma è inutile avere un portiere forte Se non è una difesa Il Pescara ha preso Due gol contro Tre gol contro la Reggiana Due gol contro il Gubbio Un gol dalla Viterbese Un gol dal Montevarchi Un gol dalla Carradese Un gol dall'Ancona Non ha mai fatto la porta inviolata Perché? Quest'anno è andato così Cioè come ogni anno Succede sempre Che al Pescara manca sempre qualcosa Ok? L'anno scorso ripeto l'attacco Quest'anno è la difesa L'anno prossimo sarà il centrocampo Io non so più Cosa devo fare Come devo pensarla Perché sinceramente Vedere ogni volta Una partita O allo stadio O in trasferta O alla televisione Cioè E comunque vedere ogni volta Che ci stanno sempre Dei buchi Nella squadra Sempre Qualsiasi ruolo Ogni anno A me mi cascono le braccia Non perdevamo un casa Con la regione Da una vita Da una vita Che poi a partita Avevamo pure preso A un certo punto Io non so più Come dobbiamo fare Perché Abbiamo Ogni anno Ci manca sempre qualcosa Non riusciamo mai a fare una cosa Al 100% Parlando anche di auteri Sinceramente Io non lo so L'anno scorso Io sento un sacco di persone Dire la stagione al Bari Dell'anno scorso La stagione al Bari Dell'anno scorso Non so che stagione Ha fatto al Bari L'anno scorso Non mi sono informato Ho voluto Ho voluto pensare In questo modo Ho detto Vabbè Guardiamo C'era così Proprio a occhi chiusi Chiudiamo gli occhi E prendiamolo Senza vedere Quello che ha fatto Pelo meno Io ho ragionato così Senza andare a vedere Quello che ha fatto L'anno scorso Vediamo quello che combina Quest'anno Ma sinceramente Vedi per esempio L'espulsione di D'Ambo Quella poteva essere evitabile Perché? Perché era stanco Cambialo No? E poi Perché in serie C Ci stanno cambi Ci stanno tre cambi E in serie B E in serie A Cinque Perché? Non Non lo riesco a capire Sinceramente Io non lo riesco a capire Fatto sta che A me sinceramente Non convince Cioè Io Io non voglio fare I playoff Sinceramente Non li voglio proprio fare Vorrei vincerlo il campionato Ma così non lo vinceremo mai Perché non possiamo Prendere un gol a partita E né tanto meno Possiamo avere una difesa così Quindi io non lo so Sinceramente Cosa Ne esce fuori Questa è una Una reazione molto Pagabile Un video molto pacato Perché comunque Ho metabolizzato un sacco ieri Anche perché ieri Stavo anche al lavoro Quindi Lavoro Davo un occhio Dalla partita Ogni tanto E poi Qui ho dovuto Metabolizzare il tutto E Adesso sto facendo Un video con calma Ma a me sinceramente Non mi sta piacendo Per niente Proprio per niente Già La sconfitta La sconfitta Non la volevo Adesso la cosa È ancora più complicata Ci abbiamo partite Toste Dietro Vedremo come si Evolverà Adesso lunedì Avremo la partita Contro la Virtus Centella Poi avremo anche Modena Ci avremo in casa La Fermana Non ho Aspettative Spero solo che Megliorerà la difesa Perché sinceramente Di sto passo La vedo proprio dura 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 Perché non ce la fai mai E se vai ai playoff I playoff È difficile Che li vinci Perché ci stanno Certe squadre Che fanno veramente Paura Va bene Questo video ragazzi È terminato Ci vediamo Al prossimo video Bella